48 stasera, cioè è buona per carità Dunque siamo mid si presume contro Ari E quindi niente, andiamo comunque di Dorans Blade Di come startà con questi Forse l'item dei soldi, no meglio questo Magari, no l'item dei soldi non so se Forse che è in top contro gli azuri è già meglio l'item dei soldi Però mid contro Ari ci serve vita Perché fa danni puri e i danni puri sono lezzi Quindi magari sto tanta di vita qua ci parla un po' il culo Troll contro troll, il frozen muletto Il tuo compito sarà focussare lì nelle teamfighter Per mostrare chi è lo smart alpha Yasumo che babbaro Ah penso, io ragazzi non l'ho mai giocato Kennen Se non qualche season fa Si parte di protobelt? Non ne ho idea Si parte di Zonia Non credo proprio contro Ari Forse è stato contro Yasuo, sì Facciamo protobelt Zonia, potrebbe essere un'idea Però Ari mi romperà il culo, forse era meglio Abyssal Ragazzi lo scopriamo adesso, non lo so Guarda il nome di Yasuo Abdulla 96 Angelica 88, attenzione L'account della ragazza Oh l'issina è qua, state attenti Eh giustamente Jinx si è già messa a riparo Attenzione Siccome stanno baitando, state attenti qua Non lo so, non si capisce Per autopoizzone, ha senso come cosa Io mi preparo il teamfight Oddio che cazzo lancia, sono i kunai tipo Sì Lancia dei kunai con sta skin Thanks NP, proprio in blocco maiuscolo Oh Con cosa è morto? È morto di malattia È morto di tumore Quel minion lì No, di infarto Più credibile Poi cosa facciamo? Gankano il 2 Lissin potrebbe... No, Lissin non è il jungler È vero Ci hanno... Sì, è difficile che ganchi adesso Quindi sta facendo la W Che vedevo di ragazzi Ma chi cazzo l'ha mai giocato Sto champion Io voglio giocarlo top oltretutto Che gli asuli gli davo il cazzo Ma alla fine rivene e mene quindi Che diciamo sta rivene ragazzi Almeno farmare con cannon è easiest fuck proprio Cioè Ah, se non sbaglio Se tiro questa Ok, niente Se tiro quello niente Ok, quello è un altro attacco potenziato Che applica anche la passiva Non mi ricordo qua Il quarto attacco con la W Mi pareva fosse Ecco Vedete ragazzi Cioè Era troppo bello per essere vero C'ha anche l'ignite E l'ha Ho usato entrambo le summoner Mamma mia Vedi Non aveva quelle per la middling Però per la top sì Visto Che summoner per la top ragazzi Che aveva Perché non Boh Vabbè Cioè doveva tirarmi la W Anche su quello che avevo targettato Con tipo un auto attack If you believe a hard If you believe a hard Enough I can do this Uzmaki Naruto Ma che cazzo di gente gioca sto gioco Mamma mia I nerd ciccioni che guardano Naruto Che citano anche Ma cos'è Madonna santa Bisogna avere qualche Prima mentale Per citare Naruto Su League of Legends Ma Niente È bella che è sparita Qua Non vorrei che andasse Top Bot Contro la minimap Però Beh Non sarà andata back Senza motivo Ah ok Ah ha preso il blu Gli ha lasciato il primo blu Sinzao Beh bene Bella rottura di minchia Vabbè Portiamo pazienza Che vedo di Ah vabbè Perché hanno stillato È vero Hanno stillato il nostro Mi sa Mi sa proprio di sì E niente Arista ha in vantaggio Perché ha preso l'exp Del blu Più il blu Mh Madonna santa Per adesso farmiamo Ragazzi A farm come sto messo 32 a 26 Ok Sono in vantaggio io Ok Good Ragazzi Per chi era quello Ah forse avevo l'astitra Minion Madonna Arrivo Let's go No C'è ancora le summon Invertite Mannaggia DF Comunque sta Riven Fa abbastanza schifo Ma non poco 13 di farm Ah Good Pretty good Ragazzi 13 di farm You're on ice Le best citazioni La droga fa male Cos'è contro Naruto Contro Naruto Niente Ce l'ho con i nerd Schifosi Che citano Naruto Durante le partite Di League of Legends Mi serve una cosa Un po' da sfigati Poi sarò io Kennen sembra la coppia Meno autistica Cancerogena di Timo Può essere Però a me sembra Più cancerogeno Kennen di Timo Cioè Timo Dà fastidio a una persona Kennen dà fastidio a tutto il team Non mi tirare lo charm Ottimo Posso gentilmente farmare Non so Oh Affanculo Devo capire ancora come si gioca Purtroppo sto champ Ogni quinto attacco Quindi mi avete detto Eh vabbè Madi c'è anche il red Ma come si fa Mamma mia Poi non ho ancora beccato Quindi probabilmente In 1v non me la faccio No però c'è la ulti Quindi scapperebbe Ok Più di così Non potevo fare E No vedete Quel mignon lì Non si è beccato Allo w Ci sarà il jungler Da qualche parte Secondo me Mo tira La Q Vangrune Shyvana Shut up Why so toxic Ok Eeeh Good Qua manca Anche se è andata back Buo ragazzi Kennen mid Non mi sembra Non che escono A me top è meglio Però ora Non mi manda mai top Io metto sempre Top mid E Uh arrivo Eh niente C'è anche quell'altra Dai un altro blu Ma che due coglioni Abdullah In killing spree Coming bitch Eh sì Mo ci divertiamo Dai volevo io Vabbè che a me il blu Non serve tantissimo Però Uh Ah se non veniamo Inculati Che potrebbe essere Very easy Invece Essere inculati Ci facciamo la Protobelt Vediamo se Funziona la tattica Di Fieric Vediamo subito Non vale Te usi gli autoscript E beh Yasuo ha fatto una place Che neanche lui Sa come ha fatto Magari Tre volte di fila Evidentemente L'ha fatta Perché muore sempre Riven Go On level And I gank Attenzione Eccola Ottimo Vedi Ottimo gank La ulti In linea ret E mo come minimo Yasuo fa Qualche kill Sotto torre Invece no Ci è andata bene Eh niente C'ha una grossa wave Vai Ce l'ha provato Il belt Ragazzi Vediamo un po' Se riusciamo a fare qualcosa Con sto item Occhiooo Eh anche Arice Mamma mia Ma se lo fanno davvero Muoio Non lo sanno No perché Li vedo abbastanza carichi Ok Ha ultato Tu cazzo è andata È sparita ragazzi Ok Eh chi c'è lì Niente 212 Buono Eh tantanto C'è anche Arie Non conveniva Ingaggiarli Non mi piace Quella engage No 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 Baby Baby Va bene dai Arie non sta facendo un cazzo Sta perdendo tempo Ah Io non so ragazzi Che cazzo mi devo maxare Per seconda La E o la W Ditemelo voi Cazzo fa questa Passeggiava E ho W Mi sa la W Sinceramente La E No la E diminuisce anche il cooldown Mi sa la E Boh Ok la W Dicono tutti Let's go con la W La protobelt per clearare Io l'ho usata per far la kill Non va bene lo stesso Top prende il cazzo E ho dato conto Nel suo che è startato di scarpe Eh ma sai Shyvana Non gankare Se ganko io top Posso tentare Però non c'ho manco la ult Non ne ho idea Dai non morirci Uh The god Mate dov'è Ragazzi Ragazzi ma che combo Gli ho fatto Cioè Parliamone Distrutto Distrutto Ottimo Ottimo E Questa Too much Too handle baby Mi dispiace per te Se è troppo Yasuo Yasuo ha preso il cazzo Molto bello Kennen Molto forte Uh Bitch Presa E E Ma la protobelter La shottiamo La shottiamo La shottiamo Bitch Cosa vuoi fare The god Mamma mia ragazzi Che champ Come si fa Eh vedi Poi magari uno potrà dire Fieri ma tu giochi con i bronzi Bla 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 Ho capito ragazzi Però è comunque il mio primo game con Kennen Cioè Non so se riesco a prenderla Forse Yasuo mi viene a dare un po' il cazzo No ancora là Ok I veri Yasuo main Non si schioda mai dalla lane Ok La prendo La prendo Good La prima torre ce l'abbiamo Via Ok Questa ce l'abbiamo Vediamo cosa combina Attenzione Non ultare Non ultare Perché Che senso ha Uno Morto La double kill La double kill Sono imbarazzanti Ah è tanked Si con quali item Per che cosa ne pensi di Snitex Perché bisogna pensare Dove c'è da pensare Oh Ah ma ha preso No ma come ha fatto Mi ha sopposto To engage Vabbè fanno uno più schifo Dell'altro Cioè non è che c'è qualcuno Che ha ragione Un dove andai va E basta Riven ha più ragione Sotto quel punto di vista Lei non sta aggancando nessuno Ok Vabbè aspetta pure Aspetta aspetta Già capito che devo andare io top A killarlo Quello là Vedete Aspetto che prenda un po' di kill Così gli faccio lo shutdown E prendo un sacco di soldi Cosa ne dite di sta tattica Vi piace? A me è un sacco Ok Direi che Tutti là Per la T1 bot Io pusho mid Minchia Quanti cazzo di danni sto facendo Eh basta Più di così Quanta gente c'è Vabbè allora La ZOIA Erano in quattro comunque Pensavo fossero solo in tre Niente Ci ho provato ragazzi Aspettavo la zona per ultimo colpo Quello c'è ancora me è messo Perché non ha fatto tutti i stai Ma non aveva neanche kill Come ha fatto a fare tutti i stai Ne avrà critato Tattica Monegrabbi Vedo di fiare che non sei più lo stesso Che 3 yard Che NNAP Oh Mi avete rotto il cazzo voi Per KNNAP E non rompete più il cazzo Cioè Mi avete rotto il cazzo per KNN Che vedo di Io provo Provo il champ giustamente Top Eh Poco le pezze a culo Se non ha la ulti Si salva Si salva Vediamo se riesco ad aiutarla Brutta ulti In realtà non era male Cioè dovevo ingaggiare Xin non si sa come è sparito Quell'altro mi ha ultato Che vedo di Cazzo dovevo farli Volevo ucciderli Non è che volevo perdere tempo Vabbè Se uccidi quelli Riesco a passare Go go Dai Dai Mi ha rubato la kill Vabbè Nice comunque Oh non si lamenta più Esuo Che è successo Cazzo fa quello Andato avanti Indietro Ultato Non si capisce Cosa stanno facendo Sta dormendo Il ragazzo Eh Fa un po' schifo In effetti Ancora la ulti Al momento La protobelt Chi c'è qua dentro Eh Ah no Era lì Il gromp Vabbè ragazzi Molto difficile Anche Ari Come sempre Tra l'uno e l'altro Guarda Dai Forse Kennen È leggermente Più facile Però anche Ari Non scherzi L'exus Per Cisare Meglio Ma cosa ci buildiamo Magic resist Magic resist Penetration La penetration Ragazzi Ci buildiamo Vediamo un'altra Di queste Cosa ne pensi Del cheat Penso Dovevi buttarti Prima Scarner Ap Lel Lagava Lol Kennen È perfetto Ap Ad tank Eh beh È vero Anche quello Attenzione Cosa fanno Diciamo Diciamo che era Un po' difficile Missare quella ultima Jinx ce l'ha fatta Che culo Guardate Guardateli 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 Mamma mia Se riuscissi a prenderlo È appena C'è la protobelt Qua Qua Non è guardato No Non sembra Tieni Tieni Eh Te ne ho fatti Di danni Tieni Tieni Tenete pure Ragazzi Niente Ma anche se l'avessi preso Non sarebbe cambiato Comunque non faceva abbastanza danni Quelli Sin se la cava Non so se è guardato Potrebbe anche essere Via via Andiamo via Shuttiamoci questa Ok Uh pensavo di prendere ari Ah 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 proprio Ah che male Ah Ho una fitta ragazzi Ho una fitta al buco del culo Rip Well it was Ma top stanno ancora Stanno continuando a fare la loro partita Separata dal Dal resto del game Giustamente Vabbè Yasuo contro Riven ragazzi Cosa ti puoi aspettare Dei veri main Yasuo Riven Cioè Ovvio che hanno una partita Oh Hanno una partita a parte E beh Eh niente A quella Non le dico molto Senza ulti Poi Ce l'ha fatta Ah Fa i suoi danni Eh la W Forse lo shotto Anche senza Uh Però devo stare attento a ari Non ho neanche il Uh Vabbè niente Andiamocene Adesso Poi Tieni 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 un po' di danni gratis Mamma mia Non hanno ancora capito Che Uh Però l'issina Cioè Please Uh Pensavo Dogeava di là Dove sei Beach Ma che cazzo Ma esplodi male E' successa una cosa strana Ragazzi eh Posso dire che Non me l'aspettavo Volevo killarlo Ma è successo un casino strano Ah Non trovavo la zona Ha iniziato a premere tutti i tasti Forse devi tenerla sul 2 È meglio Pugna la tastiera ragazzi Funziona meglio Quando i tasti sono vicini Ti serve il mana Per usare la ulti Ah È vero Come faccio Dove è andato Gizzi Non vedo video con te E altri da mesi Ma non vedi proprio video di Gizzi Non li fa Non li fa più Praticamente Non è che dipende da me Se lui proprio Non li fa più Che gli devo dire No Meglio tenerla sul 3 Ormai mi ero abituato Ok Ok E che ha 200 gold Back Vabbè Purtroppo Attenzione I due eroi Xin Zhao Con la GA Secondo item Un Dark Seal Va bene Dai Sti muri del cazzo Shivan Ragazzi È un po' Fuori di testa Non so se avete notato Ma Un po' pazzarella Sta Shivan Attenzione Alla ricerca del Nig Parte 1 C'è soltanto Braum Non riusciva Ad attaccarlo Non riusciva Ad attaccarlo Mamma mia Che champ E tieni Ecco Non se l'aspettava Eh Troppo forte ragazzi Troppo forte Eh sì Dai ma come L'ha trapassato Peccato L'avessi preso Ma c'ha le scarpe No Ecco perché è così lento È lentissimo Quel bidone Striven mi tilta male Mi dispiace per te Tieni Tieni Protobelt contro il muro Ragazzi Ormai è un marchio di fabbrica Si vede che lo uso spesso Vero Il leggendario Flash Ian Attenzione Non hanno capito nulla Eh niente Poi c'è Ari che Mi ha già detto il culo Grazie al suo Tic 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 Ulti 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 Dai Morabadon Senza Cioè Non siamo nessuno Figa Use l'esprotobelt È vero Fa schifo Dei Progax Ah che Io ho iniziato a giocare Riven L'altro giorno Cosa? Eh sì The God Ragazzi Possiamo venderci sta merda qua Che non sarebbe a nulla Ci facciamo Questo Così one shottiamo Ancora di più Ah Riven è fucking useless Cos'è sta build? Non ha Un per cento di cooldown Action Ma nulla Nulla Non ha niente Colo di asuli Senza infinity Sta facendo lo static Ma cos'è? Dopo la phantom Come gioca sta gente? Vabbè Xinzao comunque è The God Cioè Guardate la build di Xinzao Con il dark seal Che è l'oggetto penso Più bello di tutta sta build Vabbè Anche gli altri non scherzano Sono tutti un po' Maluccio Ecco Fanno tutti un pochino schifo Eh Dove sei? Eh Già scappato Che manca all'appello Shyvana Shyvana è back Eccola Niente E continuiamo così In Sardinia ci sono sette gradi Stati più phantom new meta Ciao Fieric Sono venuto dallo stream di là Poi vabbè Dai dopo ci torni Che tanto io Finisco tra un po' No Che or sono? Non lo so E Ma che non me l'aspettavo I go in I go in Minchia ragazzi Qua faccio una combo Che non se l'aspettano Devo un attimo pensare Ma allora Ah c'ho il ghost E lei che mi fa andare velocissimo Pronto Bel tulti Tiro Qualche W Una Q Eccetera E poi Zonia Con il 3 Ok La combo ragazzi Ce l'ho già in mente Devo solo Metterla in atto adesso Vado eh Aspettate Nulla di ciò invece Perché mi ha preso Con lo shadow Vedete Ah la combo Aspettate ragazzi Qual'era Potrò fare Ulti Zonia Però Non so Mi ha avuto istinto A fare la zona Per salvarmi Ma Non ha funzionato Vabbè Hanno tirato tutto su di me E gli altri Hanno fatto qualcosa Good Ma Quelli che inizio partita Scrivono Vi prego Flammate Vado Hav Che poi Flammano Loro Vanno Hav Quanto Vabberemo Dire Che ci Volete Fare Ragazzi Esistono Anche Quelli Ragazzi Difendo Io Top Tranquilli Tranquilli Ragazzi Difendo Io Non vogliono Tutti Vado Finiscono Eh no Non finiscono Allora andiamo Top Guardate Guardate Ah La farmata Signori Big money Ragazzi Purtroppo A questo elo È normale Che ci sia gente Che non sa fare combo Tipo me Vedete Poi dicono Fieri Grazie Tu sei vincere Tanto con i bronzi No Vedete Non so vincere Anche solo con i bronzi Ogni tanto Perdo anche con i bronzi Ma ci sono Minion Da queste parti O se li sono magnati Tutti loro No perché E questo Eh Ci sarà qualcuno A queste parti No O invece Ah Non è morto Maiale Ciao La zona adesso Mannaggia Mezzo secondo Ce l'avevo Ah vabbè Si sperimenta Ragazzi Si sperimenta Ma che c'ho questo Vediamo Vai Riven Ce la puoi fare Dammassare Uno Xin Zhao 412 Senza armor Frappare No Un po' di GA Ce l'ha Comunque Malissimo Un dente Mannaggia Il dente Il giudizio Quanto male fa Perché Filippo è mod Dove lo vedi Filippo mod Eh niente Ragazzi Grazie Gli ho carriati State tranquilli Non è niente I don't deserve this Eh Yasuo Guarda Con questa build Meglio non parlare Ah proprio Ah Minca quanti punti che sto facendo Almeno il grafico Dai dai Oh almeno questo Dai fatto un po' schifo Però il grafico dei danni parla chiaro Quindi Grazie Almeno il grafico dei danni pini che pulsano A qualche volta Es quello da Villa Di Grazie.